Ciao a tutti, ciao a prima, ciao a noi Ciao, ciao Federica, ciao a tutti, come va? È arrivata Cecilia, aggiungiamo, ciao Alessandra Ciao, ciao Elena, ciao Anzia Ehi, ciao Ehi, ciao ciao Come stai? Bene Hai cambiato gli occhiali Oh sì Figo Sì Ci piacciono Grazie, grazie Devo aggiungere un po' di verde, adesso mi stai facendo un po' di invidia con la pianta dietro Sì, sì, sono bellissime Io invece sono piena di roba attaccata Ma sai che le piante, le piante verdi negli ambienti, anche in casa, sai come cambiano completamente anche proprio l'umore? È una cosa pazzesca, sì sì Io devo dire che sono amante delle piante in casa, ce le ho tutte nei bagni Perché prendono umidità E sono diventate bellissime Come le sposto? Tutte secche Ho iniziato a metterle un po' in bagno perché ho messo le mensoline sopra la vasca di bagno Quindi ho messo un po' di piante cascanti E devo dire che si stanno ancora un po' ambientando Però ho visto già che iniziano a muoversi, a crescere Ottimo Allora Allora Intanto abbiamo visto il tuo studio questa settimana, che bello Bellissimo Grazie Una bellissima stanza Non so quanto durerà l'ordine in questa stanza così come l'ho fatto vedere ma Ci provo da Sì Ma poi comunque è una cosa ciclica nel senso che magari fa il periodo in cui riesci A tenerti le cose intorno un pochino più Ma quando hai tanto lavoro Davvero non hai il tempo materiale di farlo Quindi devi comunque tenerti un'organizzazione che ti consenta di fare tutto Minimo casino possibile ma tante cose in giro Quindi Poi anche noi nel nostro disordine comunque abbiamo la nostra logica Assolutamente Allora Mi sa che stasera c'è una compleannata? Ecco no, io non ho guardato Sì Non ho visto però oggi è il compleanno di Melissa Allora le lasciamo gli auguri La nostra Melissa La nostra info point di dove andare a trovare tutti gli articoli sul web Perfetto Quindi se c'è bene, se non c'è sentirà più Li sentirà, esatto, quando vede il video Speriamo che abbia passato un buon compleanno È da parte di tutti Esatto I chiacchieroni monolinea Buon compleanno Auguri meli Vista Emanuela Occhiali nuovi dice la Filovagando Sì, che ci siamo sentite oggi pomeriggio Vi ho fatto una bella videochiamata Bene Allora, stasera Questa sera, sì, facciamo una cosa un pochino nuova Nel senso Che Dici tutto, dici tutto Perché io stasera premetto che mi mettono i panni di tutti coloro che devono solo imparare Anche io, anche io È una cosa che facciamo insieme È una cosa che facciamo insieme Allora Abbiamo pensato che oltre l'italico ci sono tanti altri stili di calligrafia che si possono fare monolinea, no? Basicamente tu prendi uno stile, decidi lo strumento che vuoi usare E poi produci quelle forme con lo strumento e vedi il segno che lasci E questo vale per tutti, no? Che io uso un pennello, che uso un tiraline, che uso una cola penna, eccetera Stessa cosa con la matita o con un altro strumento che fa il segno monolinea Io ho pensato che sarebbe stato carino E sono io la colpevole qua Esatto, diciamolo E diciamolo Sarebbe stato carino Andare a fare insieme questo esercizio Ma non sto scherzando, lo facciamo veramente insieme Proprio uno sforzo comune Perché è uno sforzo Di sforzo trattasi Di andare a prendere la prima scrittura Che è stata codificata effettivamente come scrittura minuscola Che è la carolingia Che derivava già Che affesta questa cosa Cioè andare ad intercettare le prime minuscole Che si sono verificate nella storia Non è proprio esatto Poi abbiamo dei paleografi tra noi Che però non sono tra noi Ma credo di ricordarmi che Anna Saleri Ha studiato questa cosa La Sara di Calicarta è super brava in queste cose Per le date che io magari l'avessi Sì, però noi non abbiamo la pretesa Di fare una cosa super dettagliata Non vogliamo nemmeno farlo Però ci piace contestualizzare anche un minimo quello che facciamo Quindi ti dicevo Non è stato il primo alfabeto minuscolo in realtà Perché qualcosa si era già visto prima Non minuscolo Un alfabeto corsivo Una scrittura che non fosse I romani ce l'avevano Ok? Per farla breve Avevano una scrittura che era usata popolarmente Vogliamo dire così In realtà Il carattere è tutto minuscolo Perché loro venivano dall'onciale Ok? Sì Che è tutta maiuscola Onciale insieme a onciale È tutta maiuscola E perché? Perché i libri che scrivevano Erano libri molto preziosi Perché c'erano poche persone che scrivevano Perché ci mettevano un sacco di tempo a scriverlo E quando arrivavano in fondo a monoscritto Spesso avevano usato un sacco di materiali costosi Cioè produrre un libro all'epoca era una cosa davvero costosa In termini di tempo Di materiali Era una vera impresa Esatto Esatto E poi c'erano pochissime persone che sapevano scrivere Ed essendo una cosa preziosa usavano le scritture che erano considerate più nobili Ok? Perciò derivavano dalle capitali romane Che cosa succede? Che Carlo Magno Perché tutto questo La Carolingia prende il nome dall'impero di Carlo Magno Stiamo parlando di ottavo secolo Tra l'ottavo e il decimo secolo Decide di Per espandere il suo impero Decide di Cacciare i barbari Dalle regioni della Franconia Dell'odierna Francia Dell'Italia settentrionale Eccetera Il papato era da Quisgrana Francia Ok? Quindi Lui che cosa fa? Decide Ah, io sono il protettore del papato Lui era effettivamente cattolico E si fa amico il papa Ve la sto raccontando veramente in termini Da cosa Che però per avere un'opera generale è quello che ci vuole Ok, giusto per dare una cosa Un contesto Quindi si lega molto al papato e alla chiesa in generale I monasteri in quel momento Erano il posto dove si producevano questi manoscritti Lui era molto appassionato di calligrafia Era un alfabeta e impara a leggere e scrivere molto tardi In età adulta Qualcuno dice addirittura che non sapesse scrivere, eccetera Ma la cosa importante è che lui capisce Che c'è bisogno di alfabetizzare di più l'impero Il suo impero Quindi che cosa fa? Emana degli editti Diciamo che incentiva tutta questa produzione E si fa aiutare Siccome lui ovviamente andava in guerra Faceva questo, faceva quell'altro Lui faceva il re Gli piaceva però questa cosa E capisce anche che legarsi in questo modo Alla chiesa e alle abbazie Probabilmente gli dà anche un ritorno In termini di Di sostegno E si fa aiutare da Alcuino Che era di base in un monastero in Francia Alcuino persona intelligente Che mette insieme Questo Alfabeto Che adesso vi faccio vedere Ci sono Aspettate che me lo sono aperto Nel tablet Perché voglio girare la Telecamera E vi faccio vedere Aspettate che qualcosa Sono piena di libri sulla scrivania Ma voglio Voglio farveli vedere La cosa Secondo me Figa È che A parte adesso Vediamo questa cosa Le immagini così Vi rendete conto della scrittura Perché è importante La carolingia Perché È la scrittura Da cui Edward Johnston Ha ripreso Il foundational Quello che oggi Noi chiamiamo Foundational Sì Che è la Minuscola romana Anche chiamata Minuscola romana Che era stata Recuperata Dagli umanisti Del quindicesimo secolo Lui È Vissuto A cavallo Tra l'ottocento E il novecento All'inizio del novecento Pubblica il suo libro Famoso E sulla base Del suo libro Poi rinasce Tutto un movimento Di Riscoperta Della calligrafia Ok? Da lì poi si ricomincia A studiare Calligrafia Eccetera 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 Johnston Lo ha fatto Questo lavoro Partendo Dal salterio Di Ramsey Che è molto Bello È un pochino Tardo rispetto Ai primi esempi Aspettate che Giro la telecamera Così vi faccio vedere Aspettate Allora Purtroppo io qua Ho Le luci Che si vedono Queste qui Sono Adesso mi si sta anche spegnendo Ok Le prime Lettere minuscole Della carolingia Vedi come sono uguali Al foundational? Sì Sono proprio loro E se Visto che tutte Siete state bravissime Avete comperato Questo libercolo qui Qui dentro C'è il foundational Allora Poi Vi voglio far vedere Aspettate Ok Questo qui Adesso andiamo avanti Questo qui è preso Dalla Libreria Vaticana Dei manoscritti Vabbè Vado direttamente qua Ok Poi vi ingrandisco Vediamo se riesco A farvi vedere Ok Questo qui è Un esempio di Primissime Produzioni Con questa Con questo Minuscolo Mentre Adesso vi faccio vedere Invece l'altro Questo qui È il salterio Di Ramsey Guardate che Pulizia Delle lettere Si vede che è evoluta Molto identificabili Le lettere In questo Testo qua Sono molto leggibili Molto leggibili Sì Come si dice Nella descrizione La pagina Della Libreria Vaticana Dove si trova Questa Questa cosa qua E dice Una cosa Molto interessante Che adesso C'è tutta una Una cosa Un capitolo Sulla Carolingia No Questo è materiale Questo è materiale Che tu trovi online Certo Sì 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 Allora Tanto per darvi Un'idea Di E non lo sto Inventando io Lo sto proprio Leggendo Dal sito Eccolo qua La Carolina Ai giorni nostri Ma è piccolissimo Quindi adesso Ve lo leggo Velocemente Ma forse Riesco anche A inquadrarvelo Qui Allora Vedete Il dodicesimo secolo La Carolina Ha concluso Il suo ciclo Blah blah Viene dimenticata Per un po' Ma siccome Era molto Leggibile Viene ripresa Come vi dicevo Prima Dagli Umanisti Del rinascimento Quindicesimo secolo E la diffusero Come minuscola Umanistica Da qui Passò Nella stampa Caratteri mobili Questa è una cosa Importante Cristallizzata Nelle forme Dei caratteri Tipografici Rotondi Detti romani E ancora oggi Le sue forme Sono quelle Usate abitualmente Nella stampa E nelle scritture Elettroniche Se vi dico Times New Roman Palatino Linotype Courier Cambria Garamond O Arial Vi dice qualcosa Questa cosa Secondo me dice qualcosa Tante persone A tante persone Quindi Questo per dirvi Che Aspettate vi faccio vedere Anche quest'altra cosa Questo per dirvi Che I font Che usiamo Noi adesso Sul computer Non sono nient'altro Che Questo ve lo faccio vedere Anche se Probabilmente Qualcuno Lo conoscerà È il Libro di Mediavilla Si intitola Calligraphy Eccolo qua Calligraphy Claude Mediavilla E c'è dentro È un tomo Vi faccio vedere Quanto è alto Eccolo È alto così C'è tutto Il suo bel capitolo Sulla Carolinia Con Delle bellissime Fotografie Sono La diffusione Degli Scriptoria Vedete come erano Diffusi Qui c'è Il suo Esempio Di Carolinia Purtroppo è enorme Questo libro Quindi riesco A manapena A farvelo vedere Sì E qua ci sono ancora Degli esempi Bla bla Sì E poi c'era questo Che ti avevo mandato Che a me piace Tantissimo Che è Leggermente Inclinato È sempre Fatto Sul Come si dice Sul registro Tondo Perché la Carolinia È tutta Tonda Si vede Molto bene Che ha come E invece Quello lì È leggermente Inclinato Alcuni Di voi Aspettate Che vi levo Di torno Mediavilla Così Poi Sono più libera Ok Tanti di voi Sicuramente Hanno Questo No Marta Ce l'abbiamo Tutti In casa Foundations of Calligraphy Anche qui C'è un accenno C'è una parte Dedicata Alla Carolinia Esatto Esatto E c'è Se andate Questa qui È pagina 9 Con Eccolo qua Una parte Questo Questo qui È una parte Del salterio Di Ramsey Lo dice qua Ma la cosa Invece interessante È Aspettate Qui ci sono i gotici Eccolo qua A pagina 59 Allora Qui ci sono ancora Degli esempi Di gotica E Nella pagina Seguente Perché 59 E 60 Sono tutte e due Con degli esempi Sì È una bellissima La stai guardando Anche tu Sì Ho preso la mia copia Così ti seguo Ottimo Perfetto Allora Guardate Guarda la pagina 60 Questa qui Che sto inquadrando io Guardate Come Sembra Scritto In velocità Cioè Si Si vede Tanto il ritmo Della mano E Nonostante Siano lettere Che vivono Da sole Perché non ci sono Tantissime legature Anzi Non ce ne sono Quasi per niente Però si vede Che c'è un ritmo E questa cosa Mi piace tantissimo Perché è proprio L'inizio Della Scrittura Corsiva Cioè il minuscolo Chiama Il ritmo Chiama la rapidità E da lì poi Partono anche Le piccole legature Che ti consentono Di andare più veloce Questo era All'epoca Un beneficio In termini di tempo E anche Di spazio Occupato Sulle pagine E enorme Perché riuscivano A fare A scrivere Più cose Sulla stessa pagina No? Voleva dire Tanto Queste qua Vabbè Gli esempi sotto Sono tutti Di Sheila Waters Due Tre Quattro Queste qua Sono tutte le sue Interpretazioni Che a me piacciono Tantissimo Con un minimo Di Come dire Sono Hanno ritmo Però sono anche Molto molto pulite Molto leggibili Sì Sì Ale Allora Alessandra ci sta scrivendo È una punta tronca Giusto? Sì Questo qui La carolingia Se tu la fai Nel modo tradizionale La devi fare Con una punta tronca Noi stasera Prendiamo Gli elementi Della carolingia Facciamo Marta proviamo a fare Alcune lettere Ovviamente Iniziamo Sì E le facciamo Da qualcosa Poi dopo Esatto Con il monolinea Quello che volevamo fare Con voi È Di sperimentare Come Perché Devo fare un passetto Indietro I manuali Come questo qua Adesso ve lo riprendo ancora Come questo E tanti altri Sono una cosa Del novecento Non esistevano Prima Prima la gente Se voleva imparare A fare sta roba Andava A imparare Il mestiere Andava In una bottega O in un monastero Se parliamo Dell'ottavo secolo Quando c'era Questa scrittura E andava E andava A imparare I libri Sono una cosa E soprattutto I manuali I manuali Fatti così Sono una cosa Super recente Non sono mai Esistiti Prima No Forse sono nati Nell'ottocento Veramente nel Diciannovesimo secolo Oggi Noi abbiamo Una fortuna Incredibile Allora Proviamo a lasciare Un attimo Da parte Questo Però Sappiamo che c'è E lo possiamo Sempre consultare E lo sforzo Che proviamo a fare È di prendere Un pezzettino Di queste righe Qualche lettera E studiare Le proporzioni Studiare la forma Capire come sono fatte Cioè proviamo a fare La stessa cosa Che ha fatto Edward Johnston All'epoca Siamo troppo Pretenziose No Allora Questa cosa È interessante Perché andiamo A sviscerare Ad alta voce Un po' Un ragionamento Cioè Un'osservazione Che porta Delle conclusioni Che ci permettono Di Di sviluppare Un Qualcosa Insieme Quindi Andiamo a vedere Cosa succede Da questo Da questo Sperimento E Secondo me Sce qualcosa Di interessante Anche perché Comunque Il metodo Che proviamo A usare adesso Uno lo può Utilizzare Anche Con la punta Fine Cioè È esattamente Lo stesso Metodo Che applicate Sempre Guardate Un Un esemplare Una scritta Che sia antica O moderna Anche fatta Da un Calligrafo Vivente E Imparate Ad analizzarla Questo Questo Allora Esatto Dunque questa premessa Storica È stata molto interessante Perché Allora la parte Di Di Storia È sempre Quell'aspetto Che tendiamo Un po' A tralasciare Andiamo più Sulla Pratica Sul capire Come si scrivono Le lettere Però Capire Effettivamente Uno stile In che Momento Storico Si è Nato Si è Sviluppato Da quale Stile Precedente È nato Delle esigenze Che hanno portato La nascita Di quello Stile Fa parte Della Della Conoscenza Di quello Stile Particolare Quindi Assolutamente L'inquadramento Storico Sì Sì E anche Ti fa capire Riesci Come dici tu Riesci a capire Meglio Quello Stile Magari La scelta Di uno Strumento Piuttosto Che di Un altro Di una Forma Piuttosto Che di Un'altra Spesso Deriva Proprio Dal Come Dal Perché Si usava Quello Stile E in Che cosa Lo usavano Quindi Super Importante E poi Anche Bello Dal punto Di vista Insomma Della Conoscenza Personale Ecco Io Non riuscirei A studiare Una cosa Senza Andare a vedere Da dove Da dove Viene Allora Siccome abbiamo Parlato Del Manoscritto Scusate Del Salterio Di Ramsey E ce L'abbiamo Scusate Qua E questa Qui Io Tra l'altro Guarda un po' Che ne parlavo Sabato scorso Ho fatto Vabbè Ne parlavamo A un corso Di black Letter Guarda un po' Come facevano La R La stai vedendo Sì E quella Quella R lì Te lo ricordi Che si fa anche In punta fine Vero? In una versione Molto Antica Vogliamo chiamarlo The Round End Ah sì sì Allora Per dirvi che Non siamo Matte Non siamo Matte Allora Mi sono Perché poi Le cose Insomma È bello Anche Ok Eccolo qui Allora Lo ingrandisco Così Rimane agli atti Aspettate che Ho il telefono Attaccato Brava che L'hai trovato subito Eh ma Perché me le segno Eh brava Eccolo qui Allora Questo qui Che vi sto segnando È TR La parola è Trembling E questo Testo Questo qui È Lo Universal Penman Scritto da George Beacom Che Se studiate Punta fine Dovete Assolutamente Adesso non riesco più A togliere lo zoom Scusate Ok Ok Giro così Vedete anche La copertina Eccolo qua È lui E quella R lì È una R storica Eccola T R E M Guarda Anche quella L Eh ma Queste Sono finezze Sì 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 No 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 Infatti Eccola lì Eccola lì La R E ce l'avete Anche Adesso passo Di là Trick Eccola lì Misericordia Quindi Avere questi collegamenti Cioè Saper riconoscere Anche queste Similitudini Fra gli stili Permette anche La La migliore Leggibilità Cioè Sapendo che Nel Round La R Viene fatta A volte Così Vi permetterò Di capire Che qua C'è scritto Misericordia Magari A primo acchito Non Non si Non si Leggera Bebe Non si Non sarebbe Tanto leggibile Però In realtà Sapendo che Questa È Una R Così Come L'abbiamo Ritrovata In altre Parti Bello 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 Ecco Da dove Veniva Quella R Lì Se Magari Non lo Sapevate Adesso Lo sapete Non è Che c'è Qualcuno Che si Ha inventato La R Così No E se Non vi Sanno Spiegare Da dove Viene Quella R Glielo Insegnate Voi Allora A questo Punto Però Bisognerà Trovare Il modo Per Tenersi Sotto Il Naso Questa Cosa Decidiamo Una Cosa Siccome Secondo me La cosa Più Difficile Marta È Capire Siccome Noi Non Lavoriamo Con la Punta Tronca Ma Lavoriamo Con No Decidiamo Di Lavorare Con Monolinea Con Monolinea Esatto La prima Cosa Che Guarderei Aspetta Che sono Fuori Dalla Camera Ok Credo Così Mi Si Veda Sì È Per Per Esempio La Proporzione Tra Il Corpo Lettera Quindi L'altezza Della Mia Lettera Se io Decido Siccome Un Tondo Le lettere Vivranno Dentro Dei Moduli Quadrati Esatto E Dovrò Lasciare Penso Boh Metà Di Un Quadrato Sopra E dove Sono Le P Eccola Qua E sotto Una Metà Cioè Se questo È Uno Questo Qua È Un Mezzo Sì Però Poi Leggermente Più Di Metà Però Più Meno Metà Sì Quindi Più Meno Quindi Questo È Il Il Corpo Lettera E Queste Qua Sono Le Discendenti E Qua Ci Saranno Le Ascendenti Quindi Non Super Alte Ah Una Cosa Intelligente Da Fare E Questo Anzi Adesso Passo Proprio A Almeno Io Lo Faccio Marco Non So Tu Quando Studio Gli Alfabeti Che Si Basano Sulle Verticali O Sulle Sulle Forme Rotonde Mi Aiuto Tanto Con I Quadretti Le Prime Pagine Di Studio Le Faccio Con I Quadretti Addirittura Sulla Carta Millimetrata Sì Super Comoda Danno Dei Riferimenti Delle Gabbie Entro Qui Esatto Muoversi Con Certezza Capire Bene Le Proporzioni Così Non Impazzisci E Poi Alleni L'occhio Molto Più Velocemente Almeno Con Me Funzioni E Poi Passo Ai Fogli Quelli Con Meno Riferimenti Prima Vanno Capiti Determinate Distanze Determinate Proporzioni Vanno Comprese E Assimilate Poi Poi Una Volta Assimilate Si Riescono A Riprodurre Molto Più Facilmente Anche Su Fogli Normali Allora Quello Che vedo A parte La O Che Non è Un tondo Perfettissimo Però Ci si avvicina Molto E noi Facendolo Monolinea Non Abbiamo La possibilità Di creare Questo Bel Bianco Fatto a Forma Di limone Dentro Quindi Andremo A fare Probabilmente Una O Molto Vicina A un A un Tondo Alla fine Non Guarda C'ho Questa Matita Che mi Ha regalato L'Ale Scannerini Bellissima Che Lascia Un segno Quello Che vedo A parte L'altezza Delle Quello Che mi Viene Da Osservare Per esempio E che le I Non sono Solo Delle Astine Dritte Hanno Un'entrata E un'uscita Quindi Hanno Appena Appena Un'entrata E poi Un'uscita E Idem Nelle N Questa Qui Ha la parola Sine La prima Di questa Lettera Perché le S Le facevano Così Era Fatta Così E poi C'era Questa Cosa Però Noi Adesso La S La faremo Come Come si fa Nell'alfabeto Moderno Per tornando Per tornando la N Un momento Ha Una piccola Un piccolo Ingresso Aspetta che la faccio Un po' Grossa Così Si vede Meglio Mi sembra Di vedere Che finisce Tronca Punto Non c'è Non c'è Un piedino E poi Esce Un pochino Alto Il segno Della N Cioè Non esce Subito Come siamo Abituati A fare Con L'italico Qui Devo Aspettare A essere Perché Esco Un pochino Più E finisco Con Un'uscitina Un piccolo Tratto Ok Quindi Qua usciamo Più in alto Con un arco Che si allarga Di più Rispetto All'italico Ovviamente Sì Sì Qui si vede Vabbè Si vede proprio Tanto Tanto bene No Che erano Legate Aspetta che Guardiamo Sull'altra Sull'altra Pagina Che si vede Meglio Allora Eccolo Qua Cerchiamo Una N Ups Allora Sì Quella Ingresso Iniziale Eccolo Dico Questa Parte qua Qui un pochino Di Grazia Sotto L'asta Della N C'è Sì Però Secondo me Per la Velocità Nel Monolinea Possiamo Anche Escluderla Non Non mi Sembra Una Perdita Di Stile Invece Quello Che dobbiamo Guardare Bene È L'altezza Della Dell'uscita Dell'arco Della N Questo Qui è Importante Che se lo Faccio Partire Troppo Tardo Troppo Presto Risalendo Qui Rischio Di Non Fare Tutta L'ampiezza Della Curva Qua E Guarda Il Bianco Interno Di Questa N Come Bello Tondino Questa È La Difficoltà Che Andiamo A Fare Proviamo Sì Qua Ci Dimentichiamo Le forme Molto Magre Dell'italico E Andiamo A riempire Un po' La pancia Di tutti Gli spazi Delle Forme Eh Esatto Io Non sto Guardando Se ci Sono No Ottimo Tanta Roba Stasera Sì Sì Stasera Veramente Possiamo Possiamo Competere Con Sanremo A livello Di 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 Serietà E Di Importanza Aspetta C'è una mia compagna Di corso Di Black Letters Dai Signia Ma che figo Io sono ancora Sull'onda Entusiasmo Perché Non mi è mai Piaciuto La Black Letters Se invece Sabato Scorso Finalmente Sono riuscita A trovare La chiave Per Per adorarla Mi è piaciuto Veramente Tantissimo E non vedo L'ora Che ci sia La giornata Delle Maiuscole Bene 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 Allora la N Se io provo a fare Una serie di O N O N Sicuramente Rimango Incastrata Da qualche parte Però Da qualche parte Bisogna cominciare Quindi adesso Ci sforziamo La larghezza Del segno Che hanno lasciato Loro Secondo me È molto Vicino Alla stessa Larghezza Quello che Devo Devo Guardare È la È di lasciare Abbastanza Spazio Tra le lettere Di non Attaccarle Già mi viene Da farle Inclinate No Però Non lo so Istintivamente Mi viene da fare Meno di due Quadratini Perché la Olo Sarebbe Essere una cosa Del genere Vediamo Se riesco Allora Eh brava Potrebbe essere Quindi ci mangiamo La fettina Di là Sì Allora Potrebbe essere Che Se questo È il mio Cerchio Cioè scusate La O Sviluppo La N All'interno Compresa La grazia Quindi La grazia Cioè l'ingresso Iniziale Asticela Discendente E l'ampiezza Dell'arco Potrebbe Raggiungere La parte Di L'estremità Destra Della Della O Potrebbe Allora Possiamo Fare Noi Intanto Che Marta Fa questo Ragionamento Che secondo me Fila Usando Noi abbiamo Un bellissimo Manuale Visto che E proviamo A guardarla A controllarlo Questo qui È Pen lettering An camp E Allora La mia O È qui Ah Lei tronca La N Anche dall'altra Parte Marta Hai visto? Pagina 18 Che a me Non sembra Proprio Corretto Rispetto All'esemplare Storico Non lo so Forse Sì Ma Forse Però Voglio dire Lei Non è L'ultima Arrivata Quindi Bisognerebbe Capire Qua In questo Punto Della N Eccolo 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 Vai Pagina 28 Beccato Eccolo Esatto Però Fai Appena Appena Meno Zoom Così si Vede Anche La O Quella Sinistra Esatto Così Perfetto Ecco il ragionamento E hai ragione Tu Quindi L'interno Del bianco Della N È il cerchio Quindi Quello che ti dicevo io Che lo spessore Della penna Ti Ti fa recuperare Un pochino Del Dello spicchio Di cerchio Che ti sei persa Sulla sinistra Sì Vabbè Non dobbiamo Essere Per forza Così Precisi Nel senso Che poi Noi adesso No però Cioè Allora Ovviamente Con monolinea Dobbiamo Considerare Il fatto Che non Abbiamo La doppia Linea Dello Scheletro Ok Quindi Possiamo essere un pochino Meno fiscali Però ecco Già aver capito Che la N Si sviluppa All'interno Della O È un ulteriore Parametro Che possiamo Considerare Nello sviluppo Tutte le altre lettere Basate su queste forme Soprattutto il fatto Che quando vai a fare Aspetta che uso Un pennarello Così si vede meglio Che quando vai a fare A mano libera Il L'arco Della N Questo pezzettino qua Deve essere Un bel pezzo Di cerchio Cioè deve essere Proprio Bello Questa parte qua Se io comincio A fare Questa cosa Che c'ha lo spigolo qua Non va bene Perché ho fatto Una forma così Invece voglio Cercare proprio Questo movimento Deve essere Bello Tondo Sì un bell'arco Ed è quello Che adesso A me personalmente Viene Molto male Perché l'abitudine A fare altre forme È tanta Però secondo me Fatto Con calma Adesso Ovviamente Noi stiamo parlando Stiamo Abbiamo Abbiamo Un Trespolo Col telefono In mezzo Alle scatole E poi Soprattutto È un Iniziare Ad approcciarsi Davvero A uno stile Nuovo Io Non ho mai Seguito un corso Di Carolinge Però mi piace Tantissimo E spero E spero di riuscire A studiarla Non so nemmeno Se qualcuno La insegna Sono sincera Non lo so Se qualcuno Di voi sa Sì Sarebbe Qualche corso Molto interessante Di Carolinge Ce lo faccio sapere Di queste scritture Di queste scritture Sì Il foundational Lo insegnano In tanti Io provo Inizio a metterci Anche una I in mezzo Vediamo che cosa succede Anche con la spaziatura I quadretti Dovrebbero darci Un pochino Di aiuto Per iniziare A fare training Con l'occhio Bisognerebbe Aggiungere Almeno Qualche altra lettera Così Per la prossima settimana Se ci diamo Un Come dire Un obiettivo Di cercare Di fare Più parole possibili Con le lettere Con quelle lettere Come si fa Qual è quel gioco Scarabeo? Sì Oddio Amano tremula Sesso In una posizione Beh, dalla M Si può Creare la M Sì Andando ad affiancare Due volte Lo stesso arco E qui voglio ridere La E per esempio Stavo guardando adesso Che Una mi sembra Bella Tondeggiante Quella Della prima parola Sine Mentre Sotto dove c'è scritto Miserere Le E sono molto più piccoline Cioè sono più Condensate Sono più condensate Sì È vero Però io Tendenzialmente La farei Con L'esterno Della E Della O E poi c'è un occhiello Sopra piccolo Che è ben In diagonale E cade Sopra la metà Sì Quindi più piccolo Dello sviluppo Inferiore Della Allora Proviamo Via Fuori campo Cancelliamo Allora Per esempio HanCamp Nel suo scheletro La fa finire Sotto la linea Mediana Che non mi piace Per niente Devo dire Voglio vedere Gli altri Originali Allora Dunque Ma che fatica Stasera Ci siamo date Però È una cosa Davvero Super interessante Sì Confermo È bello Proprio Almeno Mi piace Tanto Allora Questa qui Ha un po' Spigolosetta Ma anche qui Le sono piccole Si vedono? Ci hanno L'occhiellino piccolo E a me Sembra Che cada Sempre sopra La linea di mezzo Adesso Provo ad aprirne Un altro Allora Questo Per esempio Vediamo Che anno È questo 870 871 Quindi Questo Nono secolo Andiamo A vedere E Questo È tanto Corsivo Cavolo Che bello Qui È tutta Un'altra Cosa Guardate Com'è Scritto Diverso Non so Se Riuscite A vederlo È tanto Più Appunto Corsivo E Le Vediamo Se riesco A beccarne Una Dove sei Questa Qua sopra Ecco Le facevano Sembrano Aperte Sono aperte Il trattino Di chiusura Sembra Non esserci Cioè È leggermente Accennato Leggermente Accennato E si attacca Alla lettera Successiva È legato Sì E questo Qui è Più o meno Cento anni Prima Del salterrio Di Ramsey Cosa Che mi fa Venire Scusami Elena dice Che il tratto Di chiusura Della E Negli esempi Storici Le sembra Parta Dall'interno E vada Verso L'esterno Sì Sì Venivano Dalle scritture Anciali Non te lo Dimenticare Che aveva Quel 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 Movimento Così No Sì C'è un motivo Per tutto Non lo so A me Piace Poi Vogliamo dire Una cosa E diciamola Ma se uno Fa Visto che stiamo Facendo Uno scheletro No Se uno Fa Una lettera Che non è Esattamente Come L'originale Ci può Anche stare No Anche perché Poi La bellezza Di queste cose Che ognuno Ci mette La sua Unicità Cioè Si deve Vedere Che è una Mano Diversa Dall'altra Secondo me La cosa La cosa Sbagliata Sarebbe Questa Per esempio Se io facessi Una E così Che è Un pezzettino Allora sì Questa Non fa parte Della famiglia Della carolingia Ma se Questa Questa E La chiudo Un millimetro Sopra Un millimetro Sotto Tutto sommato Sì Ora Andando Scherzando Sono 23,50 Urca Sì Quindi Adesso Ci terminano Ci Censurano Io non ho ancora capito Se hanno allungato Le virette Non le hanno allungate Non lo so Se c'è sempre Il limite Di un'ora Boh Io continuo A scrivere Inclinato Ormai Non perdo È una bella sfida Comunque La tentazione C'è di Piano piano Tendere Verso Destra Allora Abbiamo pochissime lettere Ma possiamo Farcela Se vogliamo Fare qualcosa Questa settimana Con queste lettere Allora Cosa facciamo Noi daremo Daremo Comunque Qualche riferimento Per andare A recuperare Questi 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 Testi Ricorderemo Dove si può Andare a vedere Qualche esemplare Sui testi Che abbiamo Già consigliato Ripetiamolo Velocemente Tanto questi Mi sa che Li hanno presi In tanti Ci sono Degli alfabeti Su pen lettering An camp Poi Quello che vi sta Facendo vedere Marta Foundations Of calligraphy Che ce l'avete In tanti C'è tutto Un bellissimo Capitolo Ci sono tanti Anche riferimenti Oltre a Dei testi Scritti Direttamente Da Sheila Waters Però sempre In quello stile Sì E poi C'è Il sito Della Libreria Vaticana Della Biblioteca Vaticana Asconovele Che è Adesso Ve lo dico Eccolo qui Non so se L'ho riuscita A vedere Spotlight Punto Vatlib Punto It Vediamo Se riesco Anche a Scriverlo Aspettate Così Solo che Dopo Non rimane Cavolo Ecco Ecco Spotlight Punto Vatlib Vatlib Punto It Adesso Comunque Rimane Anche Dentro E ci Trovate Tutta Questa Bella Roba Se siete Appassionati Di andare A vedere Queste Cose Qui Le trovate Insieme A tante Altre Tanti Altri Esempi Bene Marta Allora A questo punto Torniamo Un attimo Sì Torniamo A noi Vediamo Un po' Eccoci Mamma Quante cose Stasera Abbiamo solo Iniziato Tanto C'è tanto Tanto Da sperimentare E da Assimilare Però siamo sempre lì Dobbiamo essere curiosi Dobbiamo continuare A essere curiosi Cercare le cose Capire Il perché Delle cose Dei segni Delle forme E alla fine Col monolinea Si vanno A semplificare E a rendere Di uso quotidiano Perché poi alla fine Uno stile così Semplificato Monolinea Lo si può adattare Benissimo Pensa Una metodologia Di studio Ti abitua Credo Tanto Anche A Riconoscere Le spaziature Cioè ti dà Veramente Un grosso aiuto Nell'allenamento Dell'occhio Perché se l'occhio Non vede Dove saranno Non prevede Dove saranno I segni E come vai A tagliare Lo spazio Non arrivi Da nessuna parte E poi comunque Una cosa interessante Perché capisci Da dove arrivano Le nostre minuscole Cioè Non sono calate Dal cielo Non sono più Ute dal cielo Non è che qualcuno Si è inventato La mattina Si è svegliato E ha detto Facciamo sta cosa È stata un'evoluzione Durata Tanto Che ha portato A sviluppare Ogni scrittura È l'evoluzione Di quelle Che le hanno preceduta È tutto collegato È pazzesco È tutto collegato Siamo tutti In un matrix Di calligrafia Bene Si scoprì Si scoprì Che c'era Una realtà Parallela Dove c'erano Tutti questi Grandi scrittori Della storia Che ridono Delle nostre Trasmissioni In diretta Delle nostre Delle nostre E noi siamo Su un'enorme Candid camera Penso No È stata super interessante Ma Stiamo imparando Insieme Perché Sono cose Che Per chi sa È utile Rinfrescare Per chi non sa È bello È bello Comprendere Io in primis Perché È un settore Una fase storica Della scrittura Che ancora Non avevo Approcciato In modo serio Quindi È stato super 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 interessante È utile No Poi Tra l'altro Questa qui Veramente Stasera abbiamo detto Tre cose in croce Non è Non pensate Che la cosa Si esaurisca qua Quindi Se qualcuno Voglia di andarsi A studiare Qualcos'altro In più Noi Questa sera Grazie a Marta Abbiamo scoperto Che possiamo fare Le dirette In tre Quindi Si da Instagram Fa questa cosa qua Quindi Noi saremo Felicissimi Di avere Altri ospiti Adesso Non so In questo Minispazio Dello schermo Non lo so Dobbiamo Sperimentare Questa nuova Funzione Non lo so Però possiamo Sarebbe divertente Farlo Se qualcuno Vuole Si impegna Magari A cercare Qualcos'altro E viene A raccontarci Qualcosa Ci dividiamo Lo studio E studiamo Insieme Ma sarebbe Proprio Bello 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 Vero Sì Molto Dai Ok Intanto abbiamo Un po' di lettere La O La N La M La I E la E Proviamo a fare Tutte le parole Che riusciamo Mescolando queste cose Poi Se qualcuno Vuole andare avanti E fare altre lettere Ovvio Le fa E proviamo A vedere Che cosa esce Assolutamente Dai Ognuno ci mette Nessuno Se avete voglia Di sperimentare Con noi Noi saremo felici Di vedere Tutte Il prescritto Dai 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 Ok Va bene Allora Io non vedo più I commenti aggiornati Non so per quale motivo Ma Perché Instagram ci sta tagliando Le gambe No Non lo so Non lo so Però Marta Grazie Per perdere La registrazione Sì Salve Ringraziamo Ringraziamo Tutti quanti E potete andare A vedere Il festival Adesso Che festival c'è? Il festival Ma dai Veramente Io sono pessima In queste cose Vabbè Ok Scusatemi Mi vergogno Dovrei saperle Forse Non lo so Assolutamente no Ok Va bene Allora Grazie a tutti Della compagnia È stato un piacere Speriamo di non aver Preso sfondoni Esagerati No E Saremmo felici Di avere un pochino Di supporto Con qualcuno Che studia con noi Sì Dai Dai Ma anche noi Saremmo Meglio le chiacchiere Monolinea Assolutamente Sì Meno male Ok Ok ragazzi Buonanotte Ciao 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 Ciao